Perchè siete un filmato, c'è stato un filmato, c'è stato un filmato, io veramente no, c'ho un problema nella scena di faccia, io te lo giuro, sì però dovevamo basciarci per il posto, cercando di cominciare a pensare che non c'era bisogno di questo padre, abbiamo fatto un metà, un metà montata, l'altro metà montata dovevamo basciarci, ma non è lo scusso, è una cosa più poco, guarda lo scusso, perché non è fascista, no ma non per lui, guarda veramente, cioè io, ma è fascista, guarda chi? Ma uno gli ho scontato la nata, non stai un canzone, non stai un uomo a trovare, un perdone gli vuole bruciare, gli vuole bruciare, mi ha detto. Erodicissimo. Vabbè, vabbè. Non sconto, prese, dai. Vai, va, va. No, no, no. No, no, no. No, no, no. L'ultimo, va a sbagliare.